ciao a tutti oggi apriremo petalosi prot prot l'abbiamo visto su una pubblicità nella descrizione vi lascerò il link dove abbiamo visto la pubblicità che fa le puzzette allora iniziamo ad aprirlo dopo questo qua vedremo quale bustina apriamo perché le abbiamo quasi finite tutte sono un grande mago dentro è metà acqua ma le mettete nel vapeiro si dobbiamo fare le puzzette a carbo al già Amore, questo è il vecchio mago del Puccetti Il vecchio mago, il vecchio mago, mago del Puccetti Mago mago Quanto cacca? Un bacco Quattro Quattro Cune 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.